Dopo un periodo di distensione, di disgelo dovuto alla collaborazione tra il presidente americano Kennedy e il presidente russo Khrushchev, si ebbe un altro momento di crisi dovuto alla guerra del Vietnam. Il Vietnam era diviso in due territori, il Vietnam del nord con un regime comunista e il Vietnam del sud con un regime filo occidentale. I Vietcong comunisti invasero il Vietnam del sud appoggiati dall'Unione Sovietica. E così inizialmente nel 1962 il presidente Kennedy manda degli addestratori militari americani in appoggio dell'esercito del sud, fino a quando il suo successore Lyndon Johnson nel 1965 intervenne direttamente in Vietnam impiegando 700.000 soldati americani. Fu una guerra lunga e crudele che colpì anche i civili, suscitando le proteste dell'opinione pubblica americana. Gli Stati Uniti uscirono sconfitti da questa guerra, la prima guerra in cui sono sconfitti gli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, e il successore di Johnson, il presidente Nixon nel 1973 ritira i soldati. Il governo del sud cade nelle mani del Vietnam del nord e viene unificato sotto il governo comunista. In questa guerra, gli americani non erano preparati alla guerriglia messa in piedi dai Vietcong nelle giungle del sud-est asiatico e quindi usarono delle arme micidiali come le bombe al napalm che non facevano distinzioni tra soldati, civili, uomini, donne e bambini. Fu una guerra veramente terribile che scatenò la protesta degli americani che erano stanchi di questa politica guerra fondaia. Ma la rivalità tra Stati Uniti e Russia non si ebbe solo nel campo bellico, ma anche nel campo della ricerca e soprattutto nella conquista dello spazio. I primi passi furono fatti dall'Unione Sovietica, che nel 1957 lanciò il primo satellite artificiale nello spazio, lo Sputnik, successivamente lanciò la navicella Soyuz a bordo la cagnetta Laika, che purtroppo morì nello spazio e adesso è dedicata a una statua ancora oggi in Russia, e nel 1961 addirittura mandarono il primo uomo nello spazio, l'astronauta russo Yuri Gagarin, che diventò eroe di Stato, che compì il primo viaggio fuori dell'atmosfera terrestre. Quindi sembrava che la Russia, l'Unione Sovietica, avesse vinto questa gara, ma gli Stati Uniti investirono un'ingente quantità di denaro nella nuova agenzia spaziale, la NASA, fino a quando nel 1969 l'astronauta americano Neil Armstrong non fu, con la missione Apollo 11, non fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna piantandovi la bandiera americana. Gli americani avevano dimostrato che oltre a avere la supremazia sulla Terra erano arrivati anche nello spazio. Questa è una curiosa competizione che però fa capire quant'era profonda questa divisione fra queste due ideologie. Abbiamo già parlato di Nikita Khrushchev e la sua tendenza alla dialogo, alla coesistenza pacifica e al disgelo. Il primo atto che fece Khrushchev quando sostituì Stalin, morto nel 1953, fu quella di denunciare i crimini del suo predecessore rendendo pubblici i dossier dei crimini del regime staliniano. Il rapporto con i paesi occidentali fu un prontato ad una coesistenza pacifica e questo incoraggiò anche dei movimenti rivoluzionari nei paesi dell'est, soprattutto Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia, che chiedevano autonomia dalla politica sovietica. Ma la reazione del Partito Comunista fu autoritaria. È vero il dialogo, ma siamo sempre una dittatura. Quindi Khrushchev fu destituito e sostituito da Leonid Brezhnev, più allineato col partito, e i cararmati russi repressero nel sangue le rivolte di Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia. Quindi, sostanzialmente, nonostante la buona volontà di Khrushchev, non era cambiato nulla nella dittatura comunista sovietica. Ma, anche qui, se la russa sovietica non era una democrazia perfetta, non lo erano neanche gli Stati Uniti. Infatti, nella Costituzione americana esistevano ancora delle leggi segregazioniste, successive alla guerra di secessione, che distinguevano i diritti dei neri e dei bianchi. Nel 1955, Rosa Parks, una collaboratrice domestica di colore che lavorava presso una casa di bianchi, stanca dopo una giornata di lavoro, compì l'affronto di sedersi in un posto riservato ai bianchi. Di fronte all'ordine di liberare quel posto, rispose semplicemente no, fu arrestata, ma diventò il simbolo della protesta pacifica messa in piedi dal reverendo protestante Martin Luther King, che portò nel 1964 all'abolizione delle leggi segregazionistiche. Martin Luther King ricevette il Nobel, sempre nel 1964, dopo questa abolizione delle leggi segregazionistiche, ma gli Stati Uniti d'America erano un paese conservatore, dominato dai bianchi, e quindi nel 1968 Martin Luther King fu ucciso in circostanze misteriose. In questa slide vediamo in maniera rassuntiva l'opera di Martin Luther King, ma vediamo anche che nel 1960 divenne presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy, che proponeva una politica basata sull'uguaglianza, sulla giustizia e sulla pace. Istituì un programma di lavori pubblici per recuperare il livello di disoccupazione e interventi a favore dell'istruzione pubblica e dell'assistenza sanitaria gratuita. In politica estera diede un grande impulso alla ricerca spaziale e proseguì la politica di disgelo con l'Unione Sovietica, grazie alla collaborazione con il presidente sovietico Nikita Khrushchev. Presto si attirò le antipatie dei conservatori e dei bianchi e anche lui fu assassinato in circostanze misteriose il 22 novembre del 1963 a Dallas durante una visita in questa città. La lotta di Martin Luther King era basata sulla protesta non violenta, ispirata alla lotta di liberazione di Gandhi in India, e come detto gli valse nel 1964 l'abolizione delle leggi segregazionistiche e il Nobel per la pace, ma nel 1968 fu ucciso in circostanze misteriose. Questo scatenò la violenza, la protesta violenta degli afroamericani con i movimenti dei musulmani neri di Malcolm X e con l'organizzazione delle Black Panther che ormai erano stanchi della protesta non violenta e cominciarono ad usare metodi violenti. Queste immagini delle Olimpiadi del Messico del 1966 e di Mohamed Ali che aderì al movimento di Malcolm X sono delle immagini significative per quanto riguarda questa lotta violenta degli afroamericani per recuperare i loro diritti. Altre figure di spicco nell'epoca della Guerra Fredda furono Giovanni XXIII, il nuovo Papa, che nel 1962 con l'enciclica, cioè un documento scritto dedicato a tutto il mondo chiamata Pace Minterris, raccomanda la scelta della pace e auspica la risoluzione di tutti i problemi sociali e politici nel mondo attraverso la riduzione delle armi e il dialogo. Allo stesso tempo, tra il 1962 e il 1965, indisse il Concilio Vaticano II in cui avviava il dialogo tra le diverse chiese cristiane che successivamente si estenderà anche alle religioni musulmane ebraica e introdusse nei diversi paesi la liturgia nelle lingue nazionali quindi la messa e le preghiere non erano più in latino ma nelle lingue dei diversi paesi per avvicinare più fedeli alla religione cattolica. Brezhnev fu il successore di Khrushchev che tentò di proseguire il disgelo firmando con gli Stati Uniti il cosiddetto SALT, Strategic Arms Limitation Talk accordi sulla limitazione delle armi strategiche. Gli Stati Uniti così si concentrarono a rafforzare il loro controllo nell'America Latina per recuperare più risorse possibili così voleva fare anche l'Unione Sovietica in Afghanistan aumentando la sua influenza in Asia ma le andò molto male la guerra in Afghanistan dell'Unione Sovietica durò più di dieci anni e non arrivò a una conclusione. Negli anni Ottanta la parte del cattivo fu esercitata dagli Stati Uniti il presidente Ronald Reagan, in carica per due mandati dal 1980 al 1988 pronunciò una frase non certo conciliante nei confronti dell'Unione Sovietica definendolo l'impero del male gli Stati Uniti potenziarono il loro apparato difensivo mettendo in piedi una rete satellitare di intercettazione delle armi nucleari e la tensione tra le due superpotenze salì alle stelle il crollo del comunismo nel 1989 pone fine alla guerra fredda dal punto di vista economico dal 1945 al 1973 il PIL mondiale triplicò il suo valore a causa dell'incremento demografico della crescita degli investimenti privati stimolata dagli Stati Uniti e del basso costo delle materie prime, soprattutto il petrolio che era disponibile a basso prezzo nei paesi in via di sviluppo questa crescita economica interessò soprattutto il Giappone, la Germania e l'Italia tanto da far parlare di un miracolo economico ma nel 1973 la crisi in Medio Oriente e la diminuzione della produzione di petrolio e l'aumento dei prezzi messo in atto dai paesi arabi dell'OPEC organizzazione dei paesi esportatori di petrolio generò una crisi economica molto profonda che durò fino al 1993 questa crisi si nasprì ulteriormente quando nel 1979 l'Iran, fino ad allora governato dallo Shah di Persia cadde in mano alla rivoluzione islamica dell'Ayatollah Khomeini il prezzo del petrolio raggiunse il suo apice nel 1980 le conseguenze di questa crisi furono un aumento dei prezzi, un taglio delle spese statali e quindi dell'assistenza sociale e la vendita delle aziende pubbliche e privati che determinò licenziamenti di massa e riduzione dei salari a causa delle tensioni sviluppate prima dalla guerra in Vietnam e poi dalla crisi economica si sviluppò un movimento di protesta giovanile perché i giovani più liberi, più emancipati volevano svincolarsi dalla politica guerra fondaia dei loro genitori che erano reduci della seconda guerra mondiale e dal sistema consumistico messo in piedi dal boom economico e dal capitalismo in cui il denaro era diventato l'unico valore di riferimento cercavano una società più giusta e più egalitaria contro l'imperialismo delle guerre e volevano essere protagonisti della società i loro eroi di riferimento erano Gandhi, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy Ernesto Guevara, detto il C'è Mao Zedong, protagonista della rivoluzione comunista in Cina i Viet Cong, che avevano sconfitto gli Stati Uniti d'America ma anche Papa Giovanni XXIII come si articolò questa protesta giovanile? oltre alle manifestazioni politiche coinvolse anche l'ambito culturale la ritroviamo nei libri di Jack Kerouac il suo libro più famoso sulla strada o on the road racconta la ricerca di libertà dei giovani del 68 la ritroviamo nel film Il Gigante di Elias Kazan interpretato da James Dean come nella musica dei Beatles dei Rolling Stones di Janis Joplin di Bob Dylan di John Betts nella cultura dei capelloni capelli lunghi jeans e abbigliamento trasandato e questa cultura si diffonde prima negli Stati Uniti poi nella Gran Bretagna poi in tutta l'Europa occidentale in Europa dell'Est in Europa dell'Est i sovietici controllavano che la contaminazione della cultura giovanile non intaccasse i valori del paradiso comunista in questo periodo si sviluppò anche il movimento femminista in cui le donne che già nel 1948 avevano raggiunto il diritto di voto potessero emanciparsi dalla cultura maschilistica dei padri e dei mariti non vivendo più così ai margini della società nascono dei gruppi femministi organizzati che tengono delle proteste e delle manifestazioni con questa slide si conclude il capitolo abbiamo percorso questo lungo periodo che dura ben 45 anni affrontandolo in tutti i suoi aspetti arrivederci